Guia Soncini, che è qui per parlare in... Posso cantare? No, 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 se Giuseppe ci tiene... No, stavo dicendo, per parlare non necessariamente del libro che è l'economia del sé, che è il prosciutto che è venuto a vendere, questo è chiaro, però è proprio un tema di cui è interessante parlare a prescindere, no? Che poi lei ha centrato molto bene in questo libro, però è un tema molto attuale. Io sono un po' nervoso, Guia. Fai bene. Secondo me Fazio, quando ha intervistato il Papa, era meno teso di me. Oggi è una puntata che potrebbe essere quasi da Joe Rogan, come livello di shitstorm che potrebbero arrivare. Sto iniziando a pensare a Joe Rogan col Papa. Eh, quello sarebbe un altro bello scotro. È che lui prende 100 milioni di dollari, a me non pagano abbastanza, per essere sincero. È molto grave che a te non diano 100 milioni di dollari. Eh, 100 milioni di dollari. A te li danno, Maurizio, 100 milioni di dollari. No, no, no. Allora, in realtà quello che stiamo facendo è un'opera di perpetuo bullismo nei confronti di Maurizio, invitando gente che ha venduto molti più libri di... Sì, ma vabbè, non vuole poco. Perché anche Guia ha venduto molti più libri. Ha venduto molti più libri di te. Allora, il libro, dicevamo, è l'economia del sé. Vuoi fare un cappello su qual è questa economia del sé, di che cosa parla a grandi linee? Porto la tua mia piacere all'interrogazione. Anche perché io ho messo un sacco di... l'ho letto, ovviamente, come ho letto quello di prima, eccetera. Ho messo un sacco di orecchiette nelle pagine... Però adesso non sai perché. Cacchio, la soluzione era sottolineare. Io adesso ho messo queste cose che vanno, ma quando le apro... Io sono una grande annotatrice di cose che poi non mi ricordo cosa significassero. Eh, anche io. Mi vado a vedere e dico... Perché fai la nota, quella veloce, che dici, sì, metto questi due hashtag, queste due parole chiave e poi mi ricorderò. Invece poi non ti ricordi mai più. Mi ricordo niente. Capito, capito. Raccomando la vecchiaia per molte cose, ma non per la memoria. Perché per quella è abbastanza legale. È un po' una fregatura. Diciamo, l'economia del sé. L'economia del sé è quel principio per il quale se tu metti... Non so, metti che tu avessi fatto un programma su Netflix, no? Metti che. Facciamo un'ipotesi. Metti il tuo programma su Netflix sulla tua pagina Instagram, giustamente. Perché è la cosa che hai fatto, ci tieni, ne vuoi parlare. Cosa succede a questo punto? Che tu ti aspetti che dieci milioni di persone che mettono il cuoricino al tuo dire... Certo. ...ho fatto questo programma, siano dieci milioni di spettatori per quel programma. Sì. E invece non è così nel tuo caso perché sono venti e non dieci. Sì, sì, sì. Ma nel caso del tizio medio perché Instagram è una cosa che uno scorre mentre sta ai tornelli della metropolitana, mentre aspetta che bolla l'acqua per la pasta. Sì, io ci rimango sempre molto male quando poi vedo questa discrepanza fra cuoricini e vita pratica. Cioè, se tutte le persone che mi hanno messo cuoricini al mio programma della Rai l'avessero poi visto, io sarei una persona più felice probabilmente. Invece non è così. Anche la Rai sarebbe molto più felice. Anche la Rai sarebbe molto più felice. Invece sono sempre molto meno. Cosa vuol dire? Che mettiamo like a caso comunque. Io lo faccio per esempio. Allora, innanzitutto i miei cuoricini, che qui denuncio pubblicamente una mia inadeguatezza al presente, sono quasi sempre ho mangiato la pizza, ho le dita unte e mi sono finita sul video. Mi sto pulendo sullo schermo e mi ha finito la pizza. E quindi è andata così a caso. Poi c'è secondo me una questione di rappresentazione. Cioè tutta questa cosa che è l'economia del sei, che siamo noi, che è il presente, che sono i social, è un rappresentarsi in qualche modo. È come tu decidi di vendere te stesso al mondo, di dare un'immagine di te stesso al mondo. Per cui, facciamo un esempio tragico, recente. Fedez si è ammalato. Sì. Ha fatto dei post su questa sua malattia. Se tu vai a vedere sotto a questi post di Fedez, ci sono, sai che Instagram fa comparire prima, o le persone che tu segui, o le persone più famose, con più follower, con l'account verificato. Tutte queste persone che gli lasciano un cuore, un braccio che fa il muscolo, un incoraggiamento, un ti ho pensato tanto, sono tutte persone che io sono sicura che abbiano il numero di telefono di Fedez. Sì. Perché sono cantanti, attori, presentatori televisivi, non sono il mio portiere. Perché non gli telefonano? Perché lasciano questa cosa in pubblico? Secondo me per due ragioni. Sperare attraverso la malattia di Fedez di prendersi qualche follower loro? Questa è un'interpretazione tua molto maligna che io respingo perché penso che l'umanità sia fondamentalmente buona. Sono convincente, ma le dico questa cosa? Non lo so. No, un po' è perché voglio che la mia solidarietà sia pubblica, no? Magari ti telefono anche, non è detto che nessuno di questi si sia poi fatto vivo privatamente. Però di sicuro non farei solo la cosa in privato e non quella pubblica, perché quella pubblica è quella che resta. L'altro aspetto è che se io non ti metto il cuoricino, c'è tutta una branca del giornalismo. Mamma mia! Gente che ha fatto studiare i figli per fargli fare i giornalisti e forse se avessero fatto gli elettricisti io a quest'ora non starei con le lampadine appese perché ci sarebbe qualcuno che viene a mettermi le lampade a casa e invece hanno tutti fatto i giornalisti e adesso il loro lavoro è controllare se Alessandro Cattelan ha tolto o non ha tolto il follo a Chiara Ferragni e se non gliel'ha tolto ma non le ha messo il cuoricino allora c'è qualcosa che non va e allora posso titolare sul fatto che hanno litigato. Sì, infatti questa cosa ovviamente il primo rimbalzo di quando vedi un po' delle storture nel ragionamento logico diciamo così è di dare la colpa ai social io credo che i giornalisti abbiano una grande parte di colpevolezza nei confronti di quello che poi i social sono diventati perché il risalto che danno a delle cose che non ne dovrebbero avere è dannoso è dannoso non è solo dannoso io sono stato accusato per esempio sui giornali proprio per questo motivo ai tempi della scomparsa di Fabrizio Frizzi di non aver partecipato al lutto collettivo io poi ne parlo con te adesso per la prima non ne ho mai parlato io mi ero sentito con Fabrizio Frizzi fino a pochi giorni prima ma privatamente e non sono di carattere uno che partecipa a questi lutti collettivi Fedez ho parlato con lui privatamente senza mettere queste cose perché il mio carattere così mi fa pensare che i lutti, le malattie abbiano necessità di una sfera di privacy però mi hanno fatto un culo così perché Alessandro che schifo non me l'aspettavo da te perché tu a Friti non dici niente di questa cosa queste cose qui perché il principio che è passato è che se una cosa non esiste in pubblico non esiste non esiste più sì e questo su che altra scala si può valutare cioè su tutto quello che facciamo cioè tutte le esperienze che noi facciamo se non vanno poi postate è come non averle mai fatte no? beh è un po' così no? in una canzone mi pare del 1976 quindi quando i social non esistevano Francesco Guccini diceva nemmeno dentro l'accesso possiedo un mio momento e noi abbiamo creato un mondo a misura di quel verso lì in cui se ci mettiamo la crema in faccia dobbiamo far vedere i nostri follower che ci stiamo mettendo la crema in faccia se ci sposiamo dobbiamo far vedere che ci sposiamo questo fra l'altro implica una cosa che io trovo spaventosa cioè se tu mi metti il tuo innamoramento e il tuo matrimonio in diretta social nel momento in cui qualcosa va storto e qualcosa prima o poi va storto perché siamo adulti lo sappiamo che succede il tuo follower pretende di sapere il resto pretende di sapere il altro negativo di chi è la colpa tu non hai più diritto di chiuderti in casa e mangiare le patatine e piangere tutto il giorno perché il follower quella cosa lì ha diritto di vederla perché tu gli hai dato in appalto la tua vita e lui rì questo è chiaro secondo te che se hai approfondito eccetera perché quindi lo facciamo perché non siamo non siamo ancora siccome i social sono tutto sommato una cosa nuova non siamo ancora arrivati al punto in cui ci rendiamo conto ci rendiamo conto delle conseguenze o perché la bilancia comunque mi regala di più se intanto io ti dico tutto senza stare a pensare a quello che dovrò dirti nel caso in cui qualcosa andasse male nel caso in cui avrò a un certo punto bisogno di stare da solo e non potrò più farlo secondo me è un po' perché è un mondo nuovo e noi non abbiamo strumenti nuovi per analizzare un mondo nuovo noi analizziamo il mondo con categorie novecentesche per cui se una cosa va sui giornali è importante mentre sui giornali ci va anche Alessandro Cattela non ha messo il cuoricino a Fabrizio Frizzi e quindi una parte è quella una parte è che se tutti fanno una cosa forse funziona allora aspetta che lo faccio anch'io se questo specchio collettivo è necessario boh mi hanno detto che si fa facciamolo io faccio faccio quella cosa orrenda che voi giovani chiamate spoiler cioè velo cosa c'è scritto nell'ultima pagina io nell'ultima pagina del libro del prosciutto scusami l'ho chiamato libro del prosciutto dico che un conto è se tu vendi te stesso il tuo matrimonio i tuoi bambini le tue malattie ma quando tu vuoi vendermi un prodotto mi sta meno bene nel senso che io metto tutti i cuoricini del mondo ai video delle tue bambine ma mi scoccio quando tu mi vuoi dire guardate il mio programma ah sì certo quando è uscito il libro io però ho fatto esattamente quella cosa lì un po' per esperimento ma anche per vanità per cui ho iniziato a fare quella cosa che fanno tutti che è ripostare tutti quelli che ti dicono brava che bello genio 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 storia della letteratura perché poi nessuno ti dice mai ma sì dai è carino o è una merda o sei un genio non c'è mai la via di mezzo è la terra dell'iperbo internet e io mi rendo conto che è fastidioso perché lo trovo fastidioso negli altri certo io non guardo quasi mai gli account degli attori dei cantanti perché so che ci trovo 50 storie sul mio concerto di ieri sera che fra l'altro sono quasi tutte uguali perché sono quello che ha filmato il pezzo più famoso della canzone e io che lo riposto e però nonostante questo è una tentazione irresistibile è perché è una bancarella cioè tu dici se qualcuno pensa che il mio libro sia bello è giusto che anche gli altri lo sappiano perché magari si convincono si convincono e lo vanno a comprare no? probabilmente sì è che non esistono strumenti esatti cosa che poi non succede quasi mai per questo meccanismo cosa che non succede quasi mai ma c'era un famoso sceneggiatore americano che è uno che ha scritto robetta tipo tutti gli uomini del presidente che ha scritto anche dei saggi su Hollywood molto belli purtroppo non tradotti in Italia e su come funzionava Hollywood e diceva che quando gli chiedevano ma come facciamo a sapere se questo film avrà successo o no rispondeva nobody knows anything nessuno sa niente perché se si sapesse si produrrebbero solo successi se esistesse una formula se ci fosse la formula magica allora mettiamo un disco Harry Styles poi torniamo a parlare con Guia su Radio DJ e su Radio DJ e su Radio DJ e su Radio DJ